Salve ragazzi e bentornati alla carriera allenatore Allora ragazzi oggi continuiamo con il nostro Real Saracozza Allora, cosa facciamo oggi? Puntata secondo me molto importante perché ho sempre le cose più definite Bisogna semplicemente aspettare e sperare che riesca ad andare tutto in porto Allora quest'oggi come prima cosa ovviamente voglio farmi questa ultima amichevole stiva contro i Mets Che sicuramente non sarà una partita semplice per noi Poi ragazzi ho tanto bisogno di fare calciomercato ormai Dovrebbero arrivare anche tutti i resoconti per i giocatori che sto seguendo Quindi penso che oggi avremo un quadro totalmente ben definito E non credo che arriveremo già al giorno della partita contro il Villareallo Ovvero l'esordio in campionato Come sempre ragazzi io vi invito ad assoluto un mi piace Iscrivervi al canale per essere sempre aggiornati e per continuare a supportarmi Anche a commentare qualsiasi vostro dubbio, consiglio o perplessità A seguirmi sulla pagina Instagram e a sostegno di ricannale tramite un abbonamento e una donazione Allora ragazzi prima di andare avanti e di affrontare questa partita Però voglio mostrarvi che ci sono dei cambiamenti In pratica sto seguendo altra gente, altri giocatori A parte che abbiamo ancora la trattativa in corso con il Real Madrid per Alvaro Che potrebbe essere un attaccante molto importante per noi Comunque ragazzi allora ho trovato dei centrocampisti, i mancini, i coc, degli esterni soprattutto Allora ragazzi diciamo non sto fermandomi precisamente su tutti Altrimenti perdiamo vent'anni Comunque abbiamo Nonge della Juve di Avarà del Lione Frimpong qui che già stavo seguendo del Baglio del Lid Newerton esterno dello Shakhtar Diop e Odebert, due esterni francesi Odebert ovviamente lo conosciamo molto bene Per questi anni qua sudamericano Andres Gomez, Goleosho Irancunda Questo qui molto interessante, new zealandese Addirittura australiano, mi imbroglio sempre Durandville Ragazzi Durandville, lui mi piacerebbe tanto Pablo Felipe, McLean Stroix, ragazzi Stroikens Spero possa essere forte Ovviamente ragazzi qua ho cercato ruolo per ruolo Non è stato semplice, ho cercato un po' dappertutto Però ragazzi alla fine secondo me sono usciti fuori giocatori interessanti Per la maggior parte sono tutti giocatori che mostrano un ottimo potenziale Chi di più, chi di meno dovrebbero essere tutti funzionali Spero che fra questi possa uscire il nostro nuovo attaccante, il nostro nuovo esterno Per esempio ragazzi c'è questo Masilu Io personalmente conosco molto bene perché ho già avuto in passato Lui dovrebbe essere un centravanti Non so però se potrebbe fare al caso nostro Vediamo un po' come andrà a finire la trattativa per Alvaro Perché se accetterà la nostra offerta di stipendio di sotto di 10.000 Prenderò lui Però lui sarà diciamo un sostituto Vorrei prendere un ulteriore attrotto accante Perché ovviamente ragazzi vi ricordo sempre Che abbiamo anche un mercato in uscita da fare Abbiamo Luna che sta per andare in prestito Borg che sta per andare in Germania E poi ragazzi tutta quest'altra gente da cedere Oltre a questi prestiti E ovviamente ragazzi io punto tantissimo su questi giocatori Perché mi servono tanti soldi E con queste vendite secondo me Riusciremo a guadagnare un bel gruzzoletto Però ragazzi a prescindere sono sicuro che riusciremo a costruire un'ottima squadra Soprattutto una squadra che deve essere forte da punti di vista Anche banalmente negli overhaul Comunque ragazzi scendiamo subito in campo contro i Mets Ovviamente ragazzi in questo precampionato estivo le cose sono andate malissimo Speriamo che possa andare meglio oggi Simula partita Ok non devo sbagliare ancora che faccio confusione Comunque simula partita E vediamo un po' oggi come andrà a finire Inizia subito la partita Ovviamente ragazzi vi mostrerò semplicemente il gollo come sempre Oggi subito al Mets che prova a rendersi pericoloso Palla dentro e arriva immediatamente il gol ragazzi Segna Camara 1-0 Perfetto Ok ragazzi finisce il primo tempo Peccato perché abbiamo avuto parecchie opportunità per pareggiare Manuva, Leco e Azon molto pericolosi Stiamo giocando bene ragazzi Stiamo praticamente avendo il pallino del gioco come si vede anche dalle statistiche Giaccia però ancora al Mets in aria Peccato ragazzi 2-0 al secondo tiro praticamente Da parte dei nostri avversari arriva il secondo gol Peccato ragazzi abbiamo avuto anche un'altra opportunità Ma non si riesce a segnare Eppure ragazzi dovremmo avere il portiere forte È un 78 Il punto proprio sull'overall Ma non si riesce a parare Sì è per campionato estivo Lascia il tempo che trova Qui ancora che non si segna Però ragazzi speriamo che in campionato le cose possono andare meglio Perché vorrei fare una stagione da protagonista Niente ragazzi Terzo tiro, terzo gol per il Mets Assurda sta cosa Comunque facciamo anche dei cambi Visto che la squadra sì è un po' stanca Ma ce la può fare E finisce qua ragazzi 0-3 nettissimo Però le statistiche parlano abbastanza chiaro Direi che decisamente non era una partita da 3-0 per loro Anzi forse se c'era una squadra che doveva vincere Eravamo noi Fino a loro 3-0 avevano fatto 3 tiri 3 occasioni Quindi Quest'altre 2 qui è successo solamente dopo Quindi è veramente un peccato Però ragazzi alla fine della prestazione non mi dispiace L'abbiamo persa tutte e 3 E' chiaro ragazzi abbiamo affrontato anche squadre più forti Quindi Penso che sia pure questo il problema Però ecco adesso Spero di riuscire a non vedere queste stesse cose anche il campionato Dove appunto i nostri avversari dovrebbero essere a nostro livello Comunque ragazzi allora Frimpong è un 61 Pensavo qualcosina in più Peccato E in più vedo soprattutto che sono arrivate due offerte Ok per due giocatori che effettivamente voglio vendere Alvarez che sarebbe il portiere che non è sul mercato ma ha 37 anni Bisogna vedere perché comunque 37 anni Quando ci ricapita che arriva un'offerta Allora andiamo a trattare È anche un'offerta abbastanza alta Ha la clausola da un milione e tre Vedo che abbiamo tanti giocatori con la clausola comunque Devo dire questa cosa Comunque ragazzi Proviamo comunque a guadagnarci i soldi della clausola Quindi un milione e tre Perché se accettano ovviamente accetto anch'io 1.1 Se me ne danno 1.2 Ragazzi sono troppi soldi per un portiere così esperto Proveremo a prendere un nuovo portiere a sto punto che vi devo dire E poi ragazzi questa qui invece è un'offerta che mi interessa molto di più Effettivamente per un giocatore che voglio cedere Bermeco Bermeco qui come sempre Con i nomi farò tantissima difficoltà fino alla fine dei tempi Proviamo a chiedere 2.6 Accettati subito Ok forse potevo chiederne anche 3 Comunque ragazzi l'importante è che si inizi un pochino a sfollare Offerta inaccettabile per Alvaro Sinceramente ragazzi io lascerei perdere per Alvaro Vi dico la verità Quindi io rifiuto per il momento perché secondo me ci sono giocatori che hanno anche più senso acquistare Li sto seguendo Aspettiamo un attimo E poi proveremo a prenderli Comunque Prestito per Sanso Ok prestito per Sanso mi interessa Al Gantt va benissimo E trasferimento qui per Lopez Mi interessa tantissimo anche per lui E' un altro tra virgolette esubero Per noi O per me più che altro Anche in questo caso facciamo 2.650.000 Vediamo che dicono Accetto una prescindere anche in questo caso Niente ragazzi la prossima volta che faccio 3 milioni e mezzo Comunque ragazzi Cessione per noi Chi è che se ne va Bermeco Qui va al Bagliato lì 2.6 milioni Va benissimo Non c'è problema Ok Potevamo arrivare a 3 milioni addirittura Ve l'avevo detto Che qua Si può chiedere molto di più Stessa cosa anche per questo Borg che va in Germania Con lui quanto si poteva fare? 3 milioni Eh ragazzi Evidentemente posso Esagerare con le offerte Comunque Bermeco e Borg Borg è qui venduti Allora Accordo per il prestito di Luna Alla Spalmas Io accetto Un anno di prestito Alla Spalmas Una nuova offerta Per Lopez Ok ragazzi Leibar Va benissimo Allora 3 milioni ragazzi 3.250 Esageriamo Vediamo che dicono 2.8 Cioè ragazzi Non è che ci stiamo andando Ci stiamo andando così lontano 3 milioni Tondi tondi Accettano ragazzi Quindi Vuol dire che posso Tra piccoletti Esagerare con le offerte Comunque Con i rialzi Nuova cessione Questa volta Tocca a Alvarez Il portiere Quindi ragazzi Questo vuol dire che effettivamente Un nuovo portiere Ci servirebbe Ne ho visto uno Dell'atletico Che secondo me È interessante 1.2 Fatemi vedere un attimo Dov'è Dov'è Trasferimenti Hub mercato Eccoci qua Eh questo Gomis 2.4 Lui si potrebbe fare Antonio Gomis È un 68 A 20 anni Ma ci potrebbe stare Il problema È che Vabbè Alvarez Abbiamo venduto C'è Badia Che è un 68 Lui sarebbe La sua riserva Sicuramente Ragazzi Dovrebbe avere Un po' più spazio Poi questo portiere Eh ragazzi Si potrebbe fare Non faccio il prestito Perché se faccio il prestito Poi Lo faccio giocare poco Perché sicuramente Ha troppo spazio A Badia Visto che Appunto È un 78 Però ragazzi Proviamo a contattarlo Proviamo a contattare L'atletico Più che altro Vediamo un po' Si accettano Tipo Sui 2 milioni Proviamo a fare Proprio 2 milioni di euro Come prima offerta Vediamo che dicono 2.2 Eh ragazzi La La tensione è salita Veramente Ma veramente Di poco Quindi Faccio così E infatti Accettano Ragazzi Quindi direi Che per questo prezzo Ci potrebbe stare Prendere un portiere Come lui Ovviamente Ragazzi Mi aspetto anche Che si abbassi Un pochino Lo stipendio Vediamo un po' Cosa vuole essere Sporatico Perfetto Non dovrebbe manco Lamentarsi Ok 5 anni di contratto Che vengono accettati Nessuno Clauso La rescissora Lo stipendio Che fortunatamente Se lo abbassa Quindi io Direi di abbassare Ancora di più Direi di fare 5 mila Con 50 mila Di bonus ingaggio Non va bene Vuole effettivamente Qualcosina in più E allora ragazzi Facciamo 5 e 5 Con però 45 Di bonus ingaggio Vediamo che dicono No niente ragazzi Allora Facciamo come dico io 55 Cioè comunque 5.5 Con 55 Di bonus ingaggio Così non può rifiutare Niente Ha rifiutato Io sono dell'idea Che 5.5 È praticamente Il massimo Quindi facciamo 75 mila Di bonus ingaggio Finalmente Accetta Ok ragazzi Sono Quelle piccole cose Che però Secondo me Fanno la differenza Comunque finalmente Arriva un acquisto Ragazzi Arriva Un nuovo portiere Un po' sorpresa Non dovevo prendere Un portiere Ma Visto l'opportunità Di vendere un 37enne Ho detto Vai approfittiamola Perché altrimenti qua Non si chiude mai nulla Comunque ragazzi L'altro acquisto Che voglio fare Secondo me Va fatto anche subito È questo angulo Ragazzi Però il problema È lo stipendio È diventato anche Un 75 Lui da mettere Sul centro-sinistra È perfetto Quindi Proverei a contattare Il giocatore Che è svincolato Vediamo un po' Che cosa ci dice Allora Ovviamente Vuole essere cruciale È un messicano Ragazzi Quindi ci può anche stare Che un messicano Venga a giocare In Spagna A Saragozza Secondo me Ci può stare Vuole la clausola Rescissoria A me non interessa Mettere delle clausole E adesso Lo stipendo Che comunque Ragazzi Se lo abbassa Quindi io Proverò Tramite Il bonus Incaggio Qui A Fargli avere Uno stipendio Inferiore Di 10.000 euro È un titolare Quindi ci sta Che abbia uno stipendio Del genere Ok Vuole 10.000 Tondo-tondo Ma ragazzi Io accetto Io accetto 10.000 Tondo-tondo Appunto ragazzi Un 75 Ci può stare Che percepisca Giusto giusto 10.000 euro A settimana Il bonus Incaggio Di 100.000 150.000 Va benissimo ragazzi Lui sarà Il nostro centralone Di sinistra Sì È uno svincolato Però ragazzi Secondo me Ci sta Perché Dobbiamo fare Tanti acquisti Dobbiamo cambiare Tanto Sarà un mercato Complicato Quindi Provare a prendere Uno svincolato Come lui Secondo me Ci può stare E adesso ragazzi La nostra squadra È anche cambiata C'è sempre Questo badia Qui Tra virgolette È titolarissimo Ok Speriamo che possa far meglio Perché ragazzi Io confido nel fatto Che sia Un 78 Cavolo 78 È tantissimo Per la Serie B Secondo me Comunque È arrivato Il nuovo portiere Gomis Che spero Che spero Che spero possa Prendere il posto Di badia Durante Durante questa stagione Ragazzi Appena diventa Un 70 Io lo metterò in campo Lui lo voglio cedere Quindi abbiamo I due portieri Per questa stagione Poi Comunque Fino a gennaio Deve giocare Perché Non devo Fare in modo Cioè Devo fare in modo Che non Venga Richiamato Dall'Erce Perché Almeno per questa stagione Lui deve essere Il nostro portiere Comunque Qui c'è sempre Questo Lecosh Qui da vendere In difesa Nieto Nieto Che sarà ovviamente Il centralone Di sinistra Riserva di Angulo Quello qui Che è appena Arrivato Difensorissimo Molto forte Mettiamolo Così Libero Tra l'altro ragazzi Ho qua tutto segnato Quindi Vado a scrivere Angulo Allora Qua ragazzi Io non aspetto Che arrivi In i resoconti Degli altri Perché secondo me Lui l'avrei preso A prescindere Quindi Angulo Lo mettiamo qui Ci manca il centralone Che so Teoricamente Che prendere Però È un acquisto Da fare Che ci farà spendere Anche abbastanza Soldo E quindi Questo vuol dire Che giocatori come Lopez Vanno venduti Come Luna Che sta per andare In prestito Alla Spalmas Se non sbaglio Lui assolutamente È da vendere C'è comunque Da mandare in prestito Perché deve crescere Lui sarà Murigno La riserva Ovviamente Di Francesco Sebastiano Pure sul mercato Aspetto offerte Speriamo arrivino Gomez Anche lui È in vendita Lui è importantissimo Da vendere Aguado deve diventare Un centrocampista Lui pure in prestito Ovvero Liso Sto aspettando Per gli esterni A sinistra Stiamo a posto A destra Devo aspettare I resoconti A centrocampo Mi serve Mi serve Solamente Un centrocampista Mancino Preferibilmente Perché sulla destra Faremo giocare Serrano Ok Serrano Che deve anche Crescere Ripete debole Ci vuole 8 settimane Ma facciamo Box to box Anzi Lo mettiamo Mettiamolo così Dai Recupera Palloni La sua riserva Sarà Moyà Esattamente Che ha 25 anni Quindi anche lui Sicuramente Può crescere Ancora Ok Regista Poi a sinistra Abbiamo detto Aguado Che deve diventare Però un centrocampista Di ruolo Come C o C Abbiamo Mesa Che sta cambiando Di ruolo Non dovrebbe Ammertecci tanto Ma Mesa Sarà Il sostituto Di un centrocampista Centrocampista Offensivo Centrale Che voglio acquistare E in più ragazzi Per gli attaccanti Anche qua Bisogna cedere Lui In prestito Poi Cortesi In prestito Enric Sul mercato E' sceso anche di uno Speriamo che arrivi Un'offerta Assolutamente Lui Non ci interessa A parte che è prestato Quindi E lui Cioè no C'è Manu Vallego Che appunto Giocherà quest'anno Come titolare A Zon Il suo sostituto Sperando che a Zon Riesca a imporsi Bakis Anche lui Sul mercato Assolutamente Da cedere Come è Enric E Sanz In lista prestiti Quindi vuol dire Che bisogna acquistare Due attaccanti centrali Preferibilmente Mancini Quindi ragazzi Ho fatto Per l'inesima volta Un resoconto Che secondo me Ci può anche stare Visto che ci sono Due nuovi acquisti Quindi Giusto così Comunque ragazzi Dai continuiamo Continuiamo Nuova cessione Chi è che se ne va Eccolo qui Luis Lopez Il difensore Il difensore Meno male che accetta Leipar Così ci fa guadagnare Qualcosina in più E quindi ragazzi Questo vuol dire Che teoricamente Posso tentare Posso tentare Di prendere anche Un nuovo difensore centrale Non so parlare più Vabbè non è che prima Sapessi farlo Per carità Comunque allora Ci sono tante novità Qui Offerta per Games Questo qui è un altro Che va assolutamente venduto Accordo per il prestito Di Sanz Al Ghent Poi resoconti Ok Resoconti Molto importanti Allora Lui è un 69 Mancino Molto bene Nell'Unversa Solo 16 anni Non male Masì lui è un 67 Ragazzi lui mi piace molto Perché lo conosco già bene Lui è un 65 Fofanà È un esterno Dal piede sinistro Eh lo mettiamo Anche qui si può mettere A sinistra Ma anche a destra Ragazzi alla fine Sono abbastanza Interscambiabili Secondo me Anche se Fofanà Può fare anche l'attaccante Dal mio punto di vista Comunque ragazzi A sto punto Se non sbaglio Se non sbaglio Se non sbaglio Mi mancano Solamente Quei 14 giocatori lì E poi Ho anche tutti i giocatori In lista Sì ragazzi 6 giorni E ci siamo Molto bene ragazzi Quindi vuol dire Che si può iniziare A fare offerte A destra e a sinistra Soprattutto Si continua a cedere Si continua A vendere giocatori Andiamo qui In hub mercato Eccola qui La lista che piano piano Inizia a sfollare Secondo me Comunque allora Offerte ricevute Sans prestito Un anno A Ghent Va bene Games invece Che è da vendere Assolutamente Lui Costa molto poco A 32 anni Prova a fare Un milione e mezzo Tante volte accettano Però Difficilmente accetteranno Però io ci provo Facciamo 1 4 e 50 Dai Infatti viene Rifiutato Chiudiamo a 1 e 3 E siamo tutti felici E contenti Ok Proseguiamo Un altro po' Voglio arrivare Al giorno Che ho tutti I resoconti E poi Mi fermo E vedremo Tutto nella prossima puntata Allora L'uno è in prestito Alla Spalmas Per un anno 12 mesi Va benissimo E basta ragazzi Ok Era Semplicemente questo Va benissimo Poi Continuiamo Un altro pochino Vediamo 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 Offerta per Azon Ma Azon Ragazzi Non mi interessa Non lo voglio cedere Lui Devo aspettare Per questi qua Ovviamente Dai ragazzi Dai 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 Facciamo scorrere il tempo E poi ragazzi Tutto il mese Di agosto Per noi sarà Molto importante Pieno di Trattative Sicuramente Fran Games Qui Se ne va Ci saluta Ma in Inghilterra Giocare a Norwich Addirittura 1.3 Che effettivamente Nel massimo Che si poteva incassare Due interessi Cioè comunque Interesse In contatto Con altre squadre Addirittura E Games Venduto Ma a sto punto Ragazzi Alvaro Alvaro non mi interessa più Quindi Possiamo andare Avanti Questo qui è un prestito Se non sbaglio Sì Sans Al Ghent Lui ragazzi Lo voglio mandare in prestito Anche perché È un giocatore Molto talentuoso In prospettiva Può crescere tanto Quindi L'anno prossimo Può essere un giocatore Importante per noi Comunque Ennesima offerta Per Azon Stavolta Arriva il Siviglia Non ci interessa Arriva addirittura Il primo resoconto Della primavera Però ragazzi Qua i giocatori Li vedo abbastanza Debolucci Questo qui è un 46 Ho fatto anche il cambio Di ruolo Ma Non cresce Quindi ragazzi La vedo Veramente Ma veramente Complicata Questo ragazzo Comunque Eccoci qua ragazzi Ci siamo Finalmente Tutti I resoconti Che stavo aspettando Dovrebbero esserci Veramente Tutti Allora Diavara Ovviamente ragazzi Adesso inizierete A vedere qualcosina Poi Nella prossima puntata Inizieremo anche A fiondarci Sui giocatori Per fare Gli acquisti Ovviamente Sono tutti Molto Interessanti Chi di più Chi di meno Molti sono anche In scadenza C'è Coleosho Qui Che potrebbe essere Un bellissimo acquisto Anche perché È italiano Ok Meglin Centrocampista Un 68 Ok Speravo qualcosina In più lui E anche Strokes Un 68 Anche da lui Forse Qualcosina in più Me l'aspettavo Comunque ragazzi Ok Finalmente Ci siamo Ora Ho Lab Mercato Pena Di giocatori Che devo acquistare O comunque Che Appunto Sono qui Sono in tanti E posso scegliere Nel mucchio Quindi posso avere Un'idea Molto chiara Ed è quello Che volevo Da quello che speravo Che puntavo E in più ragazzi Però il problema È questo qui Che ci sono ancora 1 2 3 4 5 Giocatori Da cedere E potenzialmente Più di 5 6 milioni A disposizione Facciamo anche 7 Secondo me perché Poi con le trattative Si potrebbe Aumentare E avere 6-7 milioni In più In questo budget Vorrebbe dire Avere un budget Appunto da 20 milioni Da poter spendere Poi sul mercato Ed è quello Che voglio ragazzi Un budget Bello ampio Per poi prendere Anche giocatori Importanti Forti E quindi ragazzi Io mi fermo qua Secondo me ci sta fermarsi qua Per oggi Nella prossima puntata Appunto andremo avanti Con il calciomercato Non so se arriveremo Già al giodo Della partita Contro i figli A real Può essere Tutto può essere Però ovviamente L'obiettivo principale Sarà fare calciomercato Anche i primi acquisti Devono arrivare Assolutamente Comunque i primi acquisti In rapida successione Facciamo così Perché adesso Stanno iniziando A definirsi Vari ruoli Per esempio In porta Penso che siamo a posto In difesa Ce ne manca solamente uno Il centralone Però dobbiamo anche Venderne un altro Che è in più Per noi A centrocampo Bisogna Lavorarci tanto Per centrocampo Mettendo anche gli esterni E anche la stessa cosa In attacco Con appunto La punta Sinistra Tra virgolette Quindi ragazzi Io per oggi Vi fermo qua Le cose stanno continuando Ad evolversi Come sempre Vi invito A lasciare un mi piace Iscrivervi al canale A seguirmi sulla pagina Instagram A sostenere il canale Tramite un abbonamento E una donazione Noi ci vediamo Alla prossima E ciao a tutti Ciao a tutti